Grazie, anch'io sono un po' perplessa della mole di libri presentati. Francamente ogni anno è sempre stato presentato un riepilogo di ciò che mancava anche negli anni scorsi, sapete che me ne sono occupata in prima persona. Francamente è una mole notevole, sarebbe opportuno conoscere quali sono le modalità per cui è uscita fuori questa cifra enorme. Capisco che ci sono tanti libri che vanno smarriti, ce ne sono tanti altri che vanno al macero o usurati, ma 880 pagine sono veramente tante. Io mi asterrò, però ritengo che sia importante fare una verifica ulteriore. Grazie.